I carabinieri di Canicattia hanno fatto luce sulla morte della donna rumena di 41 anni trovata nella tarda serata di ieri in una casa di via Gaeta priva di vita. La donna sarebbe deceduta per un ictus e solo dopo sarebbe caduta dalle scale procurandosi una serie di profonde ferite. Gli investigatori in seguito ad ulteriori indagini escludono che la vittima abbia bevuto alcune ore prima del decesso del vino ancora meno arricchito da metanolo, pratica molto diffusa tra i rumeni per aumentarne la gradazione alcolica. Al momento non ci sono provvedimenti della magistratura e la salma nelle prossime ore sarà restituita ai familiari. 12 anni di carcere sono stati decisi dal Tribunale di Agrigento nei confronti dell'ex sindaco di Castrofilippo Salvatore Polito, imputato nel troncone ordinario del processo antimafia femmili. 16 anni di reclusione invece decisi per l'altro imputato. Antonino Bartolotta, il servizio. E' stata emessa ieri dai giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento la sentenza di primo grado nell'ambito del processo celebrato con il rito ordinario scaturito dall'operazione antimafia femmili. I due imputati di questo troncone erano l'ex sindaco di Castrofilippo Salvatore Polito di 56 anni ed Antonino Bartolotta, anche egli di Castrofilippo, 86 anni, ritenuto il capo mafia del paese. I giudici hanno deciso la condanna a 12 anni di reclusione per Salvatore Polito e quella a 16 anni di carcere per Antonino Bartolotta. La sentenza emessa nei loro confronti prevede pene più alta rispetto a quelle chieste per i due dei pubblici ministeri che prevedevano per i due rispettivamente 10 anni e 15 anni di carcere. Nonostante i giudici abbiano aumentato la pena, hanno riqualificato il reato da associazione mafiosa a concorso esterno. Secondo l'accusa, Salvatore Polito sarebbe stato da sempre organico alla famiglia mafiosa del suo paese, anche prima di essere eletto sindaco e avrebbe incontrato persino il boss Giuseppe Falzone durante la sua latitanza. Ippolito e Bartolotta sono in carcere dal 22 settembre del 2010 quando vennero arrestati nell'ambito dell'operazione femmile eseguita dalla squadra mobile di Agrigento e che portò in carcere altre tre persone già giudicate con il rito abbreviato. Per Bartolotta e Polito inoltre i giudici hanno disposto l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, lo stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno, l'applicazione per entrambi della misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno e il risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, cioè il comune di Castrofilippo, la provincia regionale di Agrigento e l'associazione Libere Terre. I due inoltre sono stati condannati al pagamento in soldo in favore del comune di Castrofilippo che ne ha fatto richiesta della somma di 50 mila euro a titolo di provvisionale. Spara diversi colpi di pistola contro il fratello, fortunatamente senza colpirlo. Protagonista Giuseppe Alletto, 54 anni di Campobello di Licata, arrestato alcune ore dopo il fatto dei poliziotti della sezione volanti della questura di Agrigento. Il 54enne ieri mattina ha affrontato il fratello che in quei momenti si trovava a bordo di un'auto nelle vicinanze di Campobello di Licata. Poche parole, poi gli ha puntato alla pistola facendo fuoco. I proiettili si sono conficcati nella carrozzeria della vettura, mandando in frantumi il parabrezza, ma fortunatamente l'occupante dell'autovettura è riuscito a rimanere illeso. Lo sparatore invece è salito sulla Fiat 600 ed è scappato in direzione strada statale 115 per poi proseguire verso Villaggio Mosè, dove è stato rintracciato e bloccato dalla polizia. Giuseppe Alletto si trova in stato di fermo di polizia giudiziaria con l'accusa di tentato omicidio. A Ravanuse i carabinieri nel corso del pomeriggio di ieri hanno arrestato Ionuz Chiarizza, 29enne di nazionalità rumena, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato colpito da un'ordinanza del giudice per l'indagine preliminare del Tribunale di Agrigento in quanto ritenuto responsabile di incendio doloso e stalking. La magistratura ha emesso il provvedimento restrittivo avendo concordato pienamente con le risultanze di un'attività investigativa condotta dai carabinieri di Ravanusa che ha consentito di appurare le responsabilità del giovane. Circa un incendio avvenuto il 15 novembre scorso a Ravanusa. L'indagine ha anche consentito di mettere in luce una serie di atti persecutori che l'uomo ha posto in essere negli ultimi tempi nei confronti di una donna con la quale intratteneva una relazione. Espletate le formalità di rito, l'uomo è stato condotto al carcere agrigentino di Contrada Petrusa. A Riberi i carabinieri, in esecuzione di un ordine di carcerazione messo dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo, hanno arrestato ieri Antonino Cavalcante, 42enne, pregiudicato di Ribera. Deve spiare due anni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole con sentenza definitiva di ricettazione per fatti commessi a Ribera nel 2001. L'arrestato è stato trasferito nel carcere di Sciacca. Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, sezione di staccata di Canicattì, ha condannato un amministratore di condominio di Canicattì per il reato di appropriazione in debite. Fatti contestati all'uomo risalgono ad alcuni anni fa, quando un condomino canicattinese versò all'amministratore la somma di 1.700 euro, quale quota per le spese di rifacimento del prospetto dello stabile in cui abitava. Tale somma però non è mai stata utilizzata per tale fine. Dopo anni è stata nuovamente richiesta dall'amministratore al condomino. Presentata la querela contro l'amministratore, il processo successivo si è concluso con la condanna dello stesso amministratore a sei mesi di reclusione e al pagamento di 500 euro di multa, oltre a 1.800 euro per spese illegali da risarcire alla parte civile difesa dall'avvocato Angelo Asaro. Furto la notte scorsa in un distributore di carburanti in Viale Sicilia nel quartiere di Fontanella d'Agrigento. I gnoti hanno sollevato e portato via la colonnina del self-service per l'accettazione delle banconote. Il furto è stato scoperto dagli impiegati all'apertura del distributore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radio mobile che hanno avviato le indagini. Sospesi tutti i concorsi nella sanità pubblica siciliana. Lo stabilisce una circolare inviata alle aziende sanitarie firmate dal neoassessore regionale Lucia Borsellino che mette in stand-by tutte le procedure per l'attivazione di centinaia di posti già avviate dall'ex assessore regionale Massimo Russo. La disposizione assessoriale stabilisce il divieto per le aziende sanitarie regionali di procedere alla copertura di posti vacanti o a carenze di organico fino alla definizione del processo di riorganizzazione della rete ospedaliere e del completamento del procedimento di ricollocazione del personale. Alla seconda votazione Giovanni Ardizzone è stato eletto nuovo presidente dell'Assemblea regionale siciliana. L'esponente dell'Udc ha ottenuto i 46 voti necessari per raggiungere il quorum previsto. Il servizio. Ardizzone! Sul filo di lana e grazie ai voti di Pdl e Pid è stato eletto ieri nel corso della prima seduta del Parlamento regionale il nuovo presidente dell'Ars. Come da previsioni alla fine la scelta è caduta su Giovanni Ardizzone dell'Udc ma per la maggioranza parlamentare che sostiene il governo Crocetta e che aveva proposto la candidatura proprio di Ardizzone la partenza è stata da brivido. Infatti al termine della seconda votazione dopo che la prima era andata a vuoto le preferenze a favore di Ardizzone sono state 46 proprio quelle strettamente necessarie per il quorum. Decisivi per la sua elezione sono stati voti di Pdl e Pid nella maggioranza che in realtà all'Ars e minoranza contando su 41 deputati su 90 è già resa dei conti. Facendo i calcoli tolti le preferenze di Pdl e Pid che hanno dichiarato di aver votato per il neopresidente Ardizzone è stato votato solo da un pezzo dei parlamentari della sua stessa coalizione. Franchi Tiratori sono stati almeno 12 se ad esprimersi a suo favore si annoverano anche i quattro onorevoli della lista di Nello Musumeci che sta all'opposizione del governo altrimenti salgono a 16 il candidato del Movimento 5 Stelle Antonio Venturino si è fermato a 15 preferenze. Sarò il rappresentante di tutti in questa assemblea anche dei 5 Stelle qui si farà tutto alla luce del sole abbiamo raggiunto il consenso dei 46 deputati si apre adesso un nuovo capitolo per la Sicilia e rappresenterò tutti i 90 parlamentari queste le parole di Ardizzone subito dopo l'esito della votazione non è più il tempo dei gattopardi ha concluso assicuro il mio impegno affinché cessi la prassi delle leggi di spesa approvate nottetempo spesso frutto di compromessi al ribasso. Esprimo viva soddisfazione per l'elezione del nuovo presidente dell'Ars Ardizzone che sono certo saprà rappresentare al meglio il Parlamento siciliano lo ha dichiarato il segretario regionale dell'EPD Giuseppe Lupo condivido con il presidente Ardizzone a cui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro che la sedicesima legislatura apre per la Sicilia un nuovo capitolo della sua storia ed apprezzo la sua intenzione ha continuato Lupo di favorire il dialogo tra le forze parlamentari anteponendo agli interessi di parte l'interesse generale ed il bene comune pur rispettando pienamente la volontà popolare che ha eletto il presidente Crocetta l'elezione di Ardizzone già alla prima seduta della nuova legislatura ha concluso Lupo è un atto di responsabilità del Parlamento che potrà così quanto prima avere piena funzionalità per affrontare le emergenze economiche, sociali ed in particolare l'esercizio provvisorio di bilancio in arrivo quasi 6 milioni e mezzo di euro per le nuove province siciliane quale saldo delle prime tre trimestralità per il 2012 lo prevede un decreto del Dipartimento regionale delle autonomie locali già trasmesso alla ragioneria centrale dell'assessorato per la sua registrazione la somma si aggiunge ai 2 milioni già erogati come anticipazione nel giugno di quest'anno la parte restante relativa alla quarta trimestralità è pari a 3 milioni di euro e sarà erogata nel prossimo anno alla provincia di Agrigento in particolare sono stati assegnati oltre un milione e mezzo di euro cambio di assessori alla provincia regionale di Agrigento Pasquale Mazza assessore ai servizi sociali dal 15 ottobre scorso è stato rimpiazzato ieri per volontà di Eugenio Dorsi da Salvatore Vella anche egli raffadalese ed esponente del movimento dei lealisti del presidente lista creata da Dorsi nel luglio dello scorso anno a Vella dovrebbe essere trasferita la delega ai servizi sociali già occupata dal suo predecessore è orfana fino ad ottobre dopo l'abbandono di Mariano Ragusa Mazza ha lasciato la giunta spiegato Dorsi a causa di un trasferimento collegato al suo lavoro il sindaco di Canicattì Vincenzo Corba ha disposto la chiusura della scuola elementare materna di Amicis di Via De Gasperi per i giorni 6 e 7 dicembre il provvedimento si è reso necessario a causa del malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento centralizzato dell'istituto scolastico di Amicis che nelle prime ore della mattinata di ieri ha provocato un allagamento che è interessato attraverso infiltrazioni locali scolastici siti al pian terreno al primo e al secondo piano di un'ala dell'istituto il consigliere comunale di Agrigento Giuseppe Di Rosa è intervenuto dopo l'approvazione del consiglio comunale dell'atto di indirizzo che impegna l'amministrazione comunale ad elaborare un nuovo regolamento sulle licenze taxi nonostante alcuni irresponsabili ha dichiarato Di Rosa abbiano tentato di far apparire queste iniziative come pericolose per gli attuali livelli occupazionali voglio ribadire agli addetti ai lavori e ai cittadini che lo strumento garantirà invece sviluppo rispetto della legalità e posti di lavoro saranno infatti messi a bando pubblico gli oltre 20 posti ancora liberi ha concluso Di Rosa consentendo di eliminare tutte le sacche di abusivismo garantendo in primis coloro che forniscono il servizio nel rispetto delle leggi il sindaco di Caltanissetta Michele Campisi ha affidato un incarico legale ad un penalista di Caltanissetta con lo scopo di tutelare la sua onorabilità e quella del comune la decisione si legge nella determina è legata ad una serie di articoli stampa che hanno leso in modo grave i diritti di rango costituzionale della persona del sindaco di Caltanissetta e del comune la somma impegnata a titolo di acconto è di 4.000 euro i dipendenti dell'ex consorzio Asi di Agrigento possono finalmente tirare un sospiro di sollievo dopo mesi di attesa la situazione relativa ai loro stipendi sembra essersi sbloccata nell'immediato verranno saldate tre mensilità mentre per le altre ancora c'è qualche problema da risolvere l'annuncio è arrivato dal sindacato dipendenti regionali della Cisle con una nota diffusa ieri secondo il sindacato però la problematica non si è conclusa e si sta continuando a pressare al fine di definire il percorso per far ripristinare e poter dare esecutività a quelle attività proprie dell'IRSA per ritenute un volano di crescita dell'attività produttiva attualmente in sofferenza nel nostro territorio è stato presentato ieri a Palazzo Stella a Canicattil volume a cura di donna Vincenzo Sorce dal titolo Giuseppe Lanza passione solidale per una economia umanizzata l'evento organizzato in memoria del preside scusate Giuseppe Lanza è stato voluto dall'associazione Casa Famiglia Rosetta l'intervista Professor Delana un ricordo a Giuseppe Lanza o qualcos'altro? Sì un ricordo del preside Lanza voluto soprattutto da padre Sorce che è il presidente dell'associazione Casa Famiglia Rosetta di Caltanissetta che lo ha conosciuto per il tramite dell'Umsa l'Università Maria Santissima che è stata gestita da Casa Rosetta Pino Lanza è stato chiamato a fare a insegnare economia e scienze delle finanze e in questa funzione ha svolto una serie di studi e di ricerche inverniate sulla cosiddetta economia civile questi studi sono stati pubblicati nella rivista dell'associazione che si chiama Solidarietà Padre Sorce e Casa Rosetta adesso per commemorarlo degnamente hanno deciso di pubblicare di riunire in un volume questi articoli e oggi è stato presentato questo libro con l'occasione Casa Rosetta annualmente conferisce un premio che si chiama Solidarietà indestato al titolo della rivista e è stato per il 2011 assegnato a Pino Lanza alla memoria in considerazione di tutto quello che lui ha fatto per Casa Rosetta non solo con le pubblicazioni ma anche entrando nel consiglio di amministrazione della predetta Casa Famiglia un ricordo di Pino Lanza ma Pino Lanza è stato un intellettuale e anche un operatore scolastico di prim'ordine è stato anche un cittadino che si è offerto per la gestione della cosa pubblica è stato anche una persona che ha cercato in tutti i modi di portare avanti il prestigio della città di Canicattì purtroppo la sorte ce lo ha privato rubato presto Salvatore Gallo Cassarino è il nuovo segretario generale FNS Cisle di Agrigento è stato deciso durante i lavori del consiglio generale del sindacato durante i quali sono stati nominati anche componenti della segreteria nelle persone di Nando Riverso e Giovanni Parisi il mio segretario nel ringraziare i componenti ha commentato che saranno numerosi gli impegni che lo stesso dovrà assolvere nell'interesse dei lavoratori della polizia penitenziaria e dei vigili del fuoco dell'intera provincia agrigentina considerate le molteplici vertenze ancora aperte influenzate dal particolare momento storico e sociopolitico che sta attraversando il paese da domani su iniziativa della dedo all'ambiente avrà inizio la campagna di sensibilizzazione alla raccolta differenziata all'interno delle scuole di Campobello di Licata l'iniziativa è stata concordata con la collaborazione dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Picone dei dirigenti scolastici dell'istituto comprensivo Mazzini della scuola Don Bosco manifestazione dell'Uni 3 ieri al teatro sociale di Canicati ricordati i vent'anni della fondazione dell'associazione servizio l'Uni 3 di Canicati ha festeggiato ieri i suoi primi vent'anni di vita e lo ha fatto con una intensa manifestazione che si è tenuta presso il teatro sociale ad aprire lavori ai quali hanno preso parte le più importanti autorità civili politiche e militari della città è stato l'attuale presidente dell'Uni 3 Gaetano Agello che nel corso del suo intervento ha illustrato i momenti più significativi del sudalizio canicattinese ricordando in particolare presidenti che si sono alternati nel corso degli anni alla guida dell'Uni 3 dal professor Giuseppe Carlino a Giuseppe Alaimo a Carmelo Sciaccia Cannizzaro dopo gli interventi dell'arciprete emerito di Canicati Monsignor Vincenzo Restivo e della vicepresidente nazionale dell'Uni 3 Rosa Sampognaro è seguita la lezione magistrale del dottor Salvatore Di Rosa commissario straordinario dell'azienda ospedaliera ospedali riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo Di Rosa che da primario dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattifu tra i promotori dell'Uni 3 ha trattato con ricchezza di riferimenti culturali il tema non si finisce mai di imparare l'argomento è stato affrontato anche nel corso dell'intervento di Salvatore La Carrubba alla fine della manifestazione sono state consegnate dalle targhe ricorde ai soci fondatori dell'Uni 3 e dai soci che hanno fatto parte ininterrottamente per tutto il ventennio dell'associazione canicattinese la serata è stata allietata dall'esibizione del coro dell'Uni 3 di Canicattì del soprano Piera Grifasi e del tenore Pietro Lupina Adesso in chiusura allo sport l'Agracast accede alle semifinali di Coppa Italia la squadra di Rigoli ieri pomeriggio all'Esseneto ha sconfitto per 2 a 1 la Parma un valle superando così il turno dopo la vittoria anche nel match d'andata per 1 a 0 l'Agracast adesso affronterà in semifinale il Camarath che ha superato 2 a 1 il Mazzara del Vallo vissando la vittoria maturata all'andata si è giocata invece ieri al Carrotta a Bordonaro di Canicattì la gara di recupero tra città di Canicattì Albatros e Lercara valida per il campionato di prima categoria e Biancorossi sono stati sconfitti per 3 a 2 dalla formazione palermitana adesso in chiusura diamo lo sguardo alle previsioni del medio previsioni meteo per venerdì 7 novembre in provincia di Agrigento cielo sereno poco nuvoloso in Sicilia le temperature minimo scilleranno dai meno 1 di Enna agli 11 gradi di Trapani le massime varieranno dai 7 gradi di Enna ai 15 di Siracusa e con il meteo si conclude il nostro telegiornale vi ringraziamo per averci seguito e vediamo l'appuntamento alle prossime edizioni arrivederci a